Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, continuiamo la nostra serie dove vi parlo della costruzione di tutto il nuovo studio che ho fatto Tra parentesi oggi pensavo di riuscire a parlarvi anche di questi bellissimi pannelloni in materiale riciclato che ho costruito Ma prima vi devo dire la teoria che c'è dietro a questi pannelli, quindi vi dirò perché sono così spessi, a cosa servono Chiamiamo gobe o gobe, non so come pronunciarli, però ecco vi spiego perché sono fatti in questo modo Prima di dirvi come li ho fatti con il materiale riciclato, 50% E sono sicuro che da quello che diremo oggi riuscite a capire le vostre necessità per trattare acusticamente il vostro ambiente Quindi iniziamo a parlare della fisica che c'è dietro, i pannelli sono assorbenti E ci sono due cose principali da dire che interessano direttamente l'efficacia di questi pannelli Entrambi sono fattori fisici, il primo fattore che dobbiamo tenere di conto è che il nostro suono, come voi sapete, è composto da varie frequenze E queste varie frequenze hanno varie lunghezze d'onda E queste varie lunghezze d'onda trasportano una differente quantità di energia, diciamo così In pratica i suoni più bassi hanno onde più lunghe e trasportano più energia, quindi passano anche materiali più spessi I suoni invece più acuti sono onde più strette che trasportano meno energia e che quindi possono essere stoppate molto facilmente Per esempio basta il fogliame degli alberi, se siamo a delle serate e abbiamo un albero davanti ce ne accorgiamo, non sentiamo già più gli alti Già sentiamo una cosa un po' più così? Bastano, invece all'interno di ambienti chiusi tende, stoffa in generale e comunque materiali porosi, come per esempio i pannelli piramidali che non sono tanto spessi E tra poco vi farò vedere a differenti spessori di materiale poroso, che quindi è fono assorbente, come interagiscono le onde Quindi quanto aumentando lo spessore del nostro materiale alziamo la capacità dei nostri pannelli di trattenere onde sempre più basse, hertz sempre più bassi Magari arrivando anche ai 50 e 60 hertz e sarebbero dei risultati ottimi Il secondo fattore che dobbiamo tenere presente è che quando noi emettiamo un suono all'interno di una stanza, il suono viaggia, arriva alle pareti, rimbalza e torna indietro Noi dobbiamo catturare questo suono quando in un certo senso ha una certa velocità, quindi quando sta ancora viaggiando verso la nostra parete e non quando ha toccato la parete È come una molla che si schiaccia contro una parete, quando è tutta schiacciata la sua energia è zero E questi materiali, essendo materiali porosi, come la stoffa, la nana di roccia, tutti i materiali che possiamo usare per questo tipo di lavoro Catturano in un certo senso l'onda quando è in velocità, quindi funzioneranno meglio questi pannelli quando saranno staccati dalla parete Se noi ci stacchiamo un pochino, catturiamo l'onda prima che arrivi al muro e poi la ricatturiamo probabilmente quando rimbalza dal muro Ecco, quindi tenendo di conto questi due fattori ci sono dei programmi online che ci aiutano a scoprire che tipo di pannelli ci servono per le nostre stanze E quindi andiamola a capire Eccoci qua in sala regia che ancora non vi ho mostrato completamente, però oggi ne parliamo Questa informazione che vi sto per mostrare e con la quale ho costruito anche la sala di ripresa In realtà io non sono andato a pescarle nel mondo dei musicisti o di chi suona comunque Sono andato a pescarle nel mondo di chi registra e mixa Quindi prima di tutto ho calcolato quello che serviva per la sala di regia Però poi ho applicato gli stessi pannelli anche alla stanza di ripresa Perché se tu registri bene e registri con un suono asciutto, con dei bassi controllati Poi dopo ci puoi lavorare meglio con questi microfoni Quindi andiamo a vedere Questo è un calcolatore che si trova online Basta cercare un Porous Absorber Calculator Fanno dei diagrammi per gli assorbitori porosi Che cosa si intende per materiale poroso? Sono per esempio l'ana di roccia, l'ana di vetro Tutti quei materiali che sono lanosi e che quindi trattengono l'energia delle onde sonore Il flusso d'aria diciamo Andiamo a vedere quindi che cosa succede in questo diagramma E capiamo che cosa possiamo farci noi Allora il primo dato che ci dà è la resistività dell'aria Però questo è un dato molto difficile da evincere anche dalle schede tecniche diciamo Dei produttori non viene indicato spesso la resistività dell'aria per esempio della lana di roccia Io ho trovato che un valore medio è intorno agli 11.000 rails al metro Per mettere un valore medio possiamo mettere per esempio 15.000 o 13.000 una cosa così Insomma adesso abbiamo i due fattori su cui davvero possiamo intervenire Thickness cioè lo spessore del nostro assorbitore E poi il gap di area che sono quei due fattori di cui abbiamo parlato prima E quindi andiamo a vedere come al variare di questi varia l'assorbimento degli hertz dei nostri pannelli Poi abbiamo un altro dato qua che è l'incidenza dell'onda sonora Lo lasciamo a 0 gradi perché non ho ben chiaro che cosa significa E diciamo che non ci interessa E qui abbiamo da dove parte il grafico mettiamolo da 30 hertz che è improbabile già sentire qualcosa a 30 hertz Però comunque quello che ci interessa quando vogliamo costruire un ambiente che suoni bene Che sia asciutto nei bassi ma che non sia vattato in questo modo Come spesso succede con i pannelli piramidali appunto È di scendere il più possibile verso i pochi hertz Cioè diciamo idealmente riuscire ad arrivare a degli assorbimenti già sui 60 hertz Renderebbe un ambiente superlativo cioè per la musica per quanto mi riguarda Noi siamo abituati di solito a ragionare con pannelli magari di 7 mm Se ci va bene con quei cosi piramidali 7 mm senza spazio d'aria Noi di solito siamo abituati a uno scenario del genere Dove l'assorbimento al 50% Diciamo che qui si inizia a sentire però è comunque al 50% Noi l'assorbimento ce l'abbiamo dai 300 hertz più o meno E 300 hertz è già sopra al tono naturale della mia voce Cioè magari possono essere considerati suoni bassi o medio bassi Però non sono certo quei rimbombi cupi che sentiamo per esempio da una cassa E poi vedete che l'assorbimento pieno ce l'abbiamo già a 1000 hertz Che è pienamente voce parlata Cioè ce l'abbiamo soltanto sul perorcio di acquisto Non aiutano per esempio sul suono di una cassa Vediamo che se vogliamo scendere in questa scala E arrivare almeno fino ai che ne so qui 59 hertz Dobbiamo andare a aumentare lo spessore del nostro pannello Già 15 centimetri che sono tanti per un pannello Guardate come siamo scesi quasi a 100 hertz al 50% E dopodiché la vera magia ce l'abbiamo aggiungendo uno spazio d'aria Un gap d'aria Quindi andando a vedere 10 centimetri di spazio d'aria Praticamente siamo quasi arrivati ai nostri 60 hertz parati diciamo al 50% E noi non è che possiamo sperare di arrivare a tipo 30 hertz con un super pannellone Perché vedete a un certo punto andando comunque a aumentare lo spessore del pannello C'è un fattore fisico per cui più in basso di così non si può scendere Meglio di così qua come efficienza quasi non si può andare Anche se andiamo ad aumentare vedete lo spazio d'aria dietro Vedete che non sale più anzi forse peggiora la situazione Allora quello che ho fatto io per cercare di collimare diciamo risparmio e efficienza È di andare a salire fin tanto che non vedevo dei valori interessanti di assorbimento Quindi ho trovato che il minimo accettabile per me era circa 18 centimetri Vedete che da 18 centimetri si inizia avere un assorbimento importante sui bassi Dai 60 ai 100 hertz Insomma questo è un assorbimento certo non trascurabile Non è certo il pannelletto così fino no? Da 5 il doppio sarebbe 12 però non si arriva ancora a intaccare in maniera importante i bassi Tra i 60 ai 100 hertz Ho notato che a 18 centimetri si iniziano a attaccarli Andando più su certo si attaccano ancora meglio Però un pannello di 26 centimetri vuol dire che dobbiamo accoppiare tipo 5 strati di lana di roccia Da 5 centimetri Andiamo a spendere una cifra veramente in vere conda E poi 25 centimetri sono difficili proprio da montare da gestire Insomma sono dei pannelli enormi Quindi per me io ho fatto 18 centimetri Poi andiamo a aumentare lo spazio d'aria E ho notato che tra gli 8 e i 10 centimetri vedete C'è uno scarto che mi aiuta mi fa aumentare la mia efficienza Qui a hertz bassi almeno della metà Cioè più della metà Qui sono a 0.2 di assorbimento Se metto uno spazio d'aria di 0.8 o di 10 Arrivo a 0.4 che è il doppio E quindi questa è stata la cosa che mi ha fatto dire Ok costruirò dei pannelli di 18 centimetri Con massimo Cioè anzi un minimo Di 10 centimetri d'aria dietro Ovviamente se vado ad allontanarli ancora di più Cosa che per il soffitto è possibile fare Perché posso scendere ancora un po' Se arrivo per esempio a 20 centimetri d'aria Vedete che attacco praticamente anche frequenze molto più basse Qui ci saranno circa 40 hertz Insomma stiamo parlando di un assorbimento degli hertz bassi Secondo me molto molto importante Che di solito non si ha in ambienti trattati un po' così Senza una grossa nozione Ecco capite che già avendo una nozione del genere Ci rendiamo conto di che cosa abbiamo bisogno Per rendere così come lo sentite Questo ambiente Quindi adesso che abbiamo una visione d'insieme Potrò finalmente nel prossimo video Parlarvi di come ho costruito questi pannelloni In materiale reciclato Naturalmente ci tengo a dire per i più esperti Tanto per fare contenti tutti Che non esistono soltanto gli assorbenti porosi Ma esistono anche altri tipi di pannelli Che per esempio lavorano a pressione Ma io sinceramente non ho idea di come siano fatti E poi credo che quelli più facilmente costruibili Insomma da noi comuni mortali Siano i pannelli in materiale poroso Quindi rimanete con me Se volete sapere come sono costruiti i miei Per filo e per segno Lo vediamo nel prossimo video E dunque anche per questa volta è tutto Io mi chiamo Bernardo Grillo E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao